La tanto attesa sesta edizione della Casazza di Così ha preso il via il 31 marzo presso l'orto dei frati Cappuccini dove si è tenuta la sagra rappresentazione itinerante un'antica tradizione ripresa dopo oltre 150 anni e che ha coinvolto l'intera città L'evento si è aperto con l'inaugurazione alla quale sono intervenuti il dottor Giovanni D'Urso, presidente del coordinamento associativo della Casazza colui che ha fortemente voluto questo evento riscoprendolo e rivalutandolo Il sindaco di Nicosia Luigi Bonelli, l'onorevole Gaetano Galvagno, presidente dell'Assemblea regionale siciliana Il vescovo della diocesi di Nicosia, Monsignor Giuseppe Schillasi che per la prima volta ha assistito a questa rappresentazione sagra L'onorevole Eliana Longi, parlamentare nazionale alla Camera dei Deputati L'onorevole Luisa Lantieri, vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana L'onorevole Giuseppe Lombardo, presidente dei questori dell'Assemblea regionale siciliana Quest'anno le scenografie costruite nell'orto dei frati Cappuccini sono state veramente imponenti e ben realizzate in un luogo che si presta perfettamente per questo tipo di rappresentazione Le tribune montate attorno alla scena e alla rappresentazione hanno permesso di assistere comodamente e di godersi in pieno allo spettacolo religioso In questa edizione sono state rappresentate tre scene La prima, che rappresenta il processo di Cristo da Erode, è stata messa in scena nella compagnia Amatori Gesù Cristo, essendo un Galileo, viene inviato da Pilato dinanzi al tetrarca Erode che si prende il gioco del Messia, chiedendogli più volte di fare dei miracoli La corte del re schernisce Gesù più volte e solo in pochi lo difendono Erode, stanco di non ricevere risposte dal Cristo, lo risperisce a Pilato Nella seconda scena realizzata dalla filodrammatica Girasole si compie il processo di Gesù da Pilato Il procuratore romano tenta in tutti i modi di salvare Cristo, ritenendolo innocente ma una parte dei sacerdoni del Sinedrio lo vorrebbe condannato a morte Pilato nel tentativo di salvare Gesù lo fa fragellare il Messia dopo la pesante flagellazione viene vestito con un mantello rosso ed incorrato con una corona di spine e viene portato al cospetto di Pilato Il procuratore della Giudea tenta ancora una volta di salvarlo ma gran parte della popolazione ebraica sobbillata dal clero chiede la condanna a morte del Cristo Pilato parla con Gesù, sembra volerlo salvare ma alla fine con il gesto simbolico di lavarsi le mani scrive la sua condanna a morte Gesù viene legato ad un pezzo della croce e portato sul Golgota Nella terza scena realizzata dalla compagnia Briciole d'Arte avviene la crocifissione, la morte e la deposizione di Gesù Cristo Il corteo arriva sul Golgota, i tre condannati vengono inchiodati e rissati sulle croci Cristo al centro è di due lati a destra e a sinistra assistiamo alla conversione di Disma, il buon ladrone ed una serie di collochi con i romani, i farisei, le piedonne affrante con la madre Maria accompagnata dal discepolo Giovanni al Cristo in croce viene offerto da bere una spugna intrisa d'aceto con una canna poi avviene la morte accompagnata dalla disperazione della madre e delle donne che le sono assate a fianco per accelerare la morte i due latoni vengono spezzate le gambe mentre Longino con un'arancia trapassa il costato di Gesù per accertarsi della sua morte Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea, membri del Sinedrio chiedono che il Cristo morto sia deposto dalla croce prima del sabato avviene così la struggente deposizione e il corpo di Gesù morto viene posto sulle gambe della madre Maria che lo piange disperatamente insieme alle donne e ad apostolo Giovanni la Madonna è disperata mentre il corpo di Cristo viene deposto nella tomba la scena si conclude con la speranza del Cristo risorto che appare improvvisamente alle spalle della scena principale scene estruggenti ed emozionanti che hanno colpito tutti coloro che hanno assistito in silenzio alla rappresentazione sacra di questa sesta edizione della casazza di Nicosia centinaia tra attori, comparse e maestranze coinvolte costumi, luci, audio e scenografie di alto livello degne di una grande produzione anche quest'anno le associazioni, gli attori, le compagnie teatrali, i costumisti e le maestranze che hanno lavorato instancabilmente hanno dato il massimo e lo si vede con il risultato che è stato raggiunto che lo fa eccedere tra le rappresentazioni sacre in Sicilia